Incontri, tavole rotonde, laboratori per insegnanti, genitori e ragazzi che hanno l'intento di creare sistemi collaborativi tesi a sviluppare una formazione integrata, allargando sempre di più le possibilità di cooperazione della comunità pedagogica formativa per fare in modo che questa possa agire efficacemente in funzione di un bene comune e per lo sviluppo della persona. Tutto questo è EDU12, l'iniziativa organizzata dal centro Beliber con la collaborazione di Provincia e Comune di Lucca e grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Gesam e del centro didattico Doroni-Favilla con l'idea di coinvolgere sempre più soggetti preposti alla formazione e all'educazione al fine di creare un comitato allargato che analizzi i bisogni formativi del territorio e i migliori rendendoli sempre più efficaci i percorsi e i progetti dedicati all'istruzione e alla pedagogia. Un confronto quindi fra idee, progetti e proposte diverse che consentono di verificare quali siano i reali bisogni culturali, professionali, educativi del territorio e delle persone evitando di determinare proposte dall'alto che non sempre corrispondono a reali esigenze della comunità. Il primo della lunga serie di incontri si svolgerà a mercoledì 19 settembre a Palazzo Ducale con la presentazione del libro Basta con i compiti. Atteso a Lucca la data è ancora da definire il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria.